wow ragazzi e bentornati oggi andrò a parlarvi delle armi o meglio dei progetti più utili su salva al mondo attenzione non ho detto dei progetti più forti per quello dedicherò un altro video in questa settimana oggi vi parlerò appunto dei progetti più utili quei progetti che sono utili perché hanno una funzione particolare rispetto agli altri progetti quindi so che molti di voi avranno già capito di cosa voglio parlare voglio fare una lista completa di quelle che sono le armi più utili su questo gioco e ve lo ripeto non ho detto che farò la lista delle armi forti quella la farò dopo questo video le armi utili rispetto alle armi forti sono quelle armi che hanno una funzione particolare in questo gioco e che quindi riusciamo a utilizzare quel progetto con utilità partiamo subito con la lista ah sì ci tengo a precisare che la lista è in ordine del tutto casuale e non in ordine di utilità quindi se mi sentirete dire un progetto prima di un altro è semplicemente per il fatto che viene prima nell'ordine alfabetico il cannonamento eh sì non ve l'aspettavate che sarei partito con un'arma del genere ma su questo lanciarazzi è possibile metterci tre perk di durevolezza rispetto agli altri lanciarazzi il che lo rende secondo me un lanciatore veramente veramente eccezionale io sono molto curioso di provarlo con le tre perk di durevolezza capire quanto mi funzionerà perché principalmente per cosa lo uso io il cannonamento ora lo utilizzo semplicemente quando mi va di spaccare strutture non ho voglia di rompere sono magari con un soldato che non ha la minigun o sono con un ninja perché comunque se sono o con un costruttore con la torretta uso la torretta se sono con lo straniero uso il pugno in sostanza se siamo con un soldato che non ha la minigun oppure con un ninja utilizzare il cannonamento per buttare giù un edificio enorme una casa magari vicino a un obiettivo insomma sapete anche voi come funzionano le missioni ogni tanto ci troveremo sempre a dover buttare giù un edificio un lanciarazzi come il cannonamento con tre perk di durevolezza secondo me farebbe al caso mio non sto dicendo che va fatto così attenti sto solo dicendo che quest'arma potrebbe essere utile questo video è anche per questo il capo slitta ebbene sì per chi di voi non lo sapesse col capo slitta è possibile saltare un tiles sopra di noi quindi anche non avendo il ninja anche non avendo i permessi magari in una casa base riusciremo senza fare una scala a salire sopra al tetto per esempio di un tunnel sopra al tetto di una casa base insomma avete capito si può saltare un tile sopra abbiamo il dc blaster nuova arma uscita questa settimana e comunque è un lanciarazzi ottimo perché è possibile utilizzarlo dentro i tunnel come il lanciatore nobile senza il rischio di far esplodere i bombaroli il colpo rimbalzando tante volte nel tunnel comunque fa sì che possiamo mettere quest'arma sia nelle armi utili e sia nelle armi forti ma questo è un altro discorso il demolitore a vapore sebbene quest'arma la troveremo sia in questo video e sia nel prossimo perché per chi di voi non lo sapesse il demolitore a vapore è sia un'arma utile e sia un'arma fortissima in quanto per cosa è utile direte voi certo per ammazzare gli zombie no è in questo video per un altro motivo è in questo video perché è una delle armi più comode per rimuovere le bombole dai tunnel attenti ovviamente non lo potete fare nella vostra casa base lo potrete fare solamente nel momento in cui giocate con un amico una modalità resistenza con un amico in modo che lui vi toglie i permessi e voi non fate danno alle bombole neanche con una r quindi riuscirete a spostare tutte le bombole dai passaggi con questa falce in una maniera veramente semplice e veloce così potrete tornare prima a dare il vostro contributo alla vostra resistenza in questo caso fucile di precisione al neon per cosa è utile fucile di precisione al neon ovviamente per il semplice fatto di controllare i nemici attraverso i muri col cecchino al neon riusciremo a tenere sotto controllo i nostri passaggi a vedere tra quanto arrivano a vedere il numero di smasher che arriva se l'ondata di bombaroli o no se ci sono lanciatori o streghe che stanno rompendo eccetera eccetera insomma la sua funzione è parecchio parecchio utile non è tra i cecchini più forti ovviamente ma il fatto di vedere i nemici attraverso i muri secondo me la fa rientrare in uno tra i cecchini più utili tra tutti utili non ho detto forti ci tengo sempre a ripeterlo il barone secondo voi perché il barone è utile penso lo abbiate già capito tutti per la possibilità di metterci tre perk di velocità di movimento quindi è l'unica arma dove è possibile far ciò quindi con quest'arma riusciremo a raggiungere una velocità veramente veramente elevata anche giocando per esempio col costruttore ci muoveremo veramente veramente veloce quindi il barone rientra tra le armi più utili oltre al fatto della velocità di movimento voi potrete ottenerlo con tre perk anche di corazza e questa funzione devo dire che è molto molto utile in certi casi su nessuna altra arma è possibile mettere né tre perk di velocità di movimento e né tre perk di corazza quindi tenete in considerazione sempre questo fattore ma anche un altro fattore che vi dirò più avanti nel video andiamo avanti se vi piace il cannonamento quindi non volete sprecarlo per ottenere le perk di durevolezza abbiamo visto che è l'unico lanciarazzi dove è possibile mettere tre perk di durevolezza sul jabbervoco è possibile metterne due ecco in sostanza so anch'io preferisco utilizzare magari il cannonamento contro i nemici perché è veramente divertente come arma oltre ad essere utile il jabbervoco invece rilasciando anche le palle comunque quando spari rilascia altre palle potrebbe essere veramente più utile per distruggere le strutture in quanto il jabbervoco non me lo sono mai neanche craftato per sbaglio raga sinceramente il cannonamento invece sì ogni tanto anche per fare gli accampamenti me lo crafto però chissà potrebbe essere utile anche con tre perk di durevolezza così senza perk di danno eccetera eccetera vanno comunque testate certe cose il lanciatore nobile il lanciatore nobile anch'esso è possibile utilizzarlo dentro i tunnel mi dimentico sempre della funzione di questo lanciarazzi dovete perdonarmi mi dimentico quasi sempre che esista non so dirvi il motivo in quanto è veramente un lanciatore sia forte e sia utile raga il suo colpo infatti trapassa i muri ha un raggio veramente ampio e trincerete qualsiasi nemico cioè state in quattro e con quattro lanciatori nobili in mano state tranquilli che non fallirete mai nulla il piccolo aiutante di babbo natale il piccolo aiutante di babbo natale l'ho inserito in questa lista non tanto per la forza che ha questo lanciarazzi perché è anche uno dei più forti raga sul colpo singolo è sicuramente il più forte ma bensì per l'impatto che ha infatti un impatto di 41.000 è tantissimo rientra tra le armi utili perché con questo impatto riusciremo a difenderci bene dagli smasher quelli che sono gli smasher di livello altissimo ovviamente il danno non sarà più veramente così essenziale perché noi non punteremo più a fargli male con questo lanciarazzi bensì a respingerlo con 41.000 di impatto veramente è veramente facile respingere gli zombie poi abbiamo il serlancillotto sebbene sia in fondo la lista questa secondo me è una delle armi più utili del gioco ve l'avevo detto all'inizio no? non farò l'ordine per utilità ma quanto più per ordine alfabetico raga se no vado a incasinarmi comunque questo serlancillotto raga vi spiego un attimo come è percato e come va utilizzato partite dal presupposto che questa è un'arma che non utilizzerete per killare e non utilizzerete contro piccoletti contro comunque tanti zombie è un'arma che utilizzerete per respingere e maggiormente i mini boss e qualche smasher occasionale quindi io personalmente cosa vi consiglio di fare? ovviamente l'arma si presenterà senza le perk di efficienza se voi non andate a mettere perk di efficienza energetica attacco pesante l'attacco pesante di questa lancia che è quello più utile quello che ci rilancerà appunto i mini boss magari nella lava magari è distante tante volte ci serve fare tante volte l'attacco secondario quindi efficienza energetica attacco pesante perché così riusciremo a fare più volte l'attacco secondario se non mettete queste due perk sappiate che riuscirete a utilizzare solamente due volte dopodiché dovrete aspettare che vi si ripristini l'energia poi ovviamente la perk di impatto aumentiamo l'impatto e quella perk di livello critico che mi accorgo soltanto ora è inutile potete decidere voi se aumentare la corazza la velocità d'attacco magari la sanguisuga vitale non lo so io personalmente raga vi consiglio la corazza in quanto la terrete in mano solo ed esclusivamente contro i mini boss probabilmente io l'ho lasciata perché all'epoca ero out di risorse e non ci ho più ripensato di farlo ecco valutate bene raga perché senza le due perk di efficienza energetica attacco pesante riuscirete a utilizzare solamente due volte l'attacco pesante e molte volte la distanza che vorrete far percorrere al mini boss è tanta quindi più attacchi pesanti utilizziamo più riusciremo a spingerlo più in là insomma spero di essere stato abbastanza chiaro e abbastanza semplice da comprendere il valvassore il valvassore raga è uno dei cecchini migliori che ci sia in questo gioco migliori non per la potenza ma bensì per la sua utilità infatti il colpo non farà esplodere i bombaroli non triggereremo le bombole e abbiamo un impatto di 22.000 quindi allo stesso tempo riusciremo a stare in mano con il valvassore dietro i tunnel a proteggere quelli che sono gli smasher che arrivano ci metteremo avanti li ributteremo indietro funziona dappertutto raga al massimo gli dovete tirare due colpi lo sapete però se lo smasher appena caricato quindi è lì che si deve riprendere è lì che si sta scaricando l'energia lo sapete come fanno gli smasher hanno tanti modi di triggerarvi l'impatto quindi hanno modo di triggerarvi l'impatto anche sul valvassore a voi vi basterà prestare un po' più di attenzione e utilizzarlo nel momento giusto la volontà del guardiano perché la volontà del guardiano in questa lista sebbene non sia full perk in questo caso io me ne sono fatto craftare una e per il momento non l'ho ancora tirata su anche se la tirerò su a breve comunque cosa è possibile fare con questa spada ovviamente è l'unica spada dove è possibile mettere due perk di velocità di movimento e allo stesso tempo tenere la funzionalità per saltare un tiles sopra di noi infatti a differenza del capo slitta a differenza di altre armi che hanno questa funzionalità su questa spada riuscirete a combinare velocità di movimento e salto in alto molto molto utile per quella che è la modalità endurance molto comoda per spostarsi in missione qualora non abbiamo il ninja molto comoda da usare nelle case basi di altre semplicemente se rimaniamo bloccati tra una struttura e l'altra raga valutate le opzioni anche di questa funzionalità perché non è da sottovalutare la spada in sé è anche forte se percata bene in sostanza dovete scegliere in questo caso o percarla per utilizzarla o percarla per utilità vi consiglio appunto l'utilità in quanto siamo pieni di spade siamo pieni di spade comunque forti tipo la lama spettrale eccetera eccetera vi ricordo che con l'attacco secondario potete colpire quelli che stanno col frigorifero in mano sarà molto molto semplice beh che dire raga questo era il mio video sulle armi utili spero che vi sia piaciuta l'idea mi raccomando fatemelo sapere con un commento vi anticipo già che arriverà anche il video sulle armi più forti a parer mio così da rendervi chiare le idee ci tengo a sapere con un commento se secondo voi ci sono altre armi che hanno utilità sicuramente io mi sono dimenticato di qualcosa raga sicuramente perché non è possibile che mi sia ricordato di tutte le armi tutte le funzionalità quindi se avete altri commenti da fare riguardanti il video mi raccomando fatelo io per oggi non posso fare altro che salutarvi noi ci vediamo direttamente domani bella bella ciao ciao ciao